Lezione 5 Sindrome alcolica fetale Ci sono una serie di disturbi associati al consumo materno di alcol durante la gravidanza che sono noti collettivamente come disturbi dello spettro alcolico fetale, FASD. La più caratterizzata è la sindrome alcolica fetale, FASD. La FASD è definita da quattro criteri, il primo dei quali è l'eccessiva assunzione di alcol da parte della madre durante la gravidanza, gli altri tre sono Un modello caratteristico di anomalie facciali minori e altre malformazioni, in particolare degli arti e del cuore, le caratteristiche facciali sono illustrate in figure 7 e 8. Ritardo della crescita Anomalie del sistema nervoso centrale nel feto barra neonato Figura 7 Caratteristiche facciali Caratteristiche in un bambino con sindrome alcolica fetale I risultati possono includere un filtro liscio, il solco verticale tra la base del naso e il bordo del labbro superiore Labbro superiore sottile, naso all'insù, ponte nasale piatto, pieghe della pelle che coprono l'angolo interno dell'occhio, piccole aperture tra il palpebre e circonferenza della testa piccola, fonte American Academy of Family Physicians Figura 8 Caratteristiche facciali Caratteristiche nei bambini di diverse etnie con disturbi dello spettro alcolico fetale che illustrano le caratteristiche facciali descritte nella figura 14 A. Discendenza Nordeuropea B. Nero C. Native American D. Biracial Bianco, Nero, Foto American Academy of Family Physicians La FAS è considerata la principale causa di ritardo mentale nel mondo ed è collegata a problemi di apprendimento, problemi di attenzione, tempi di reazione più lenti e problemi di risoluzione dei problemi, pianificazione e capacità di tenere traccia delle cose, National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism 2000 Studi degli anni 70 e 80 hanno stimato il tasso di incidenza della FAS negli Stati Uniti in 1 a 2 casi ogni 1000 bambini nati ogni anno In uno studio basato sulla popolazione a Seattle nel 1997, il tasso era quasi 1 su 100 nati vivi I tassi più alti fino ad oggi riportano il 4,6% dei bambini di 6 anni in una comunità all'interno della provincia del Capo Occidentale in Sudafrica, Stromland, 2004 I meccanismi che si traducono in FAS sono complessi L'etanolo e l'acetaldeide presenti nella circolazione della madre attraversano la placenta e circolano liberamente attraverso i vasi sanguigni del feto in via di sviluppo Lo sviluppo fetale implica la divisione e la migrazione delle cellule in modo attentamente orchestrato, un processo che viene interrotto da sostanze come l'etanolo Il sistema nervoso in via di sviluppo è particolarmente sensibile alle interruzioni Non tutti i bambini che sono esposti all'alcol durante la vita fetale nascono con FASD e possono esserci diversi fattori di rischio che coinvolgono fattori genetici e ambientali È probabile che ci siano anche molti altri fattori che contribuiscono, come l'alimentazione, la cura dei genitori, l'abuso di droghe e il fumo, che rendono complicata la ricerca sulla FASD Non ci sono trattamenti per invertire gli effetti dannosi dell'alcol sul cervello in via di sviluppo, sebbene i tratti caratteristici del viso diminuiscano durante l'adolescenza Non è stata identificata una soglia sicura di consumo di alcol o un periodo critico durante la gravidanza in cui è necessario evitare l'alcol Si consiglia alle donne incinte, o anche a quelle che potrebbero rimanere incinte, di astenersi dal bere alcolici Mentre FASD è completamente prevenibile evitando l'alcol durante la gravidanza, in realtà un numero significativo di donne in età fertile in tutte le culture occidentali dipende dall'alcol in una certa misura Il trattamento della dipendenza da alcol in queste donne è quindi una priorità dell'assistenza sanitaria per la protezione di eventuali futuri bambini, oltre che per la propria salute